Un messaggio alle ragazze e ai ragazzi di oggi e di domani. Abbiamo bisogno di tutto il vostro contributo, della vostra forza, della vostra competenza, della vostra creatività per costruire un mondo che possa essere più inclusivo, più solidale, più sostenibile, dove il talento di ciascuno trovi spazio e trovi possibilità per esprimersi in pieno. Le ragazze al primo posto perché non pensino mai che questo spetti a qualcun altro e magari soltanto ai ragazzi. E un messaggio anche ai ragazzi perché soltanto con un gioco di squadra si può cambiare il mondo. Di trovare le modalità attraverso cui abbandonare la pigrizia e mettersi davvero in gioco per costruire un mondo più aperto e capace di fare la differenza per il futuro delle prossime generazioni, cioè di quei bambini e di quelle bambine che vengono dopo di voi.